Eccoci, benvenuti in questo nuovo podcast, sempre con Manfredi. Ciao Manfredi. Ciao Alessio. Ciao sono andate, feste? Bene. Molto bene. Che ti ha portato a Babbo Natale. Ma devo dire poco, anzi no, mia moglie mi ha fatto un bel regalo. Mi ha detto guarda questo è l'anticipo dei 40 anni, perché a gennaio io faccio 40 anni. E proprio a dimostrazione che mia moglie mi conosce molto bene, mi ha regalato un videogioco. Che io non gioco a videogiochi nemmeno sotto tortura. ha comprato Guitar Heroes, perché ha detto Manfredi ma tu mi hai detto sempre che mi piace tanto la musica rock, sono appassionato, suonavo la chitarra e una passione volevo trasmettere a mia figlia. Dice ma tu mi hai detto che volevo suonare la batteria con Flaminia, mia figlia, e la chitarra? Allora ti ho comprato il videogioco. Hai visto? Mi conosce bene mia moglie, devo dire. Vogliamo preannunciare il fatto che da qui a poco tempo posterai anche tu dei podcast sul tuo canale YouTube? Sì, sì, sono partito, ho già registrato un paio di episodi, tra l'altro ospite d'onore, un defagnato di chi è, Alessio, il primo episodio con Alessio, e sempre sul mio canale Manfredi Lombardi, e sì, in serie manca noi. Senti, prendo la palla al balzo e ti analizzo in questo podcast. No, senti, parliamo sempre di marketing di video, e quindi di conseguenza può essere utile raccontare la propria esperienza per quanto riguarda i video, soprattutto prima più per la persona che per il professionista, perché comunque un professionista che si appresta a fare dei video e si ritrova improvvisamente davanti alla telecamera, è un impatto che non è proprio così semplice, perché ti mette davanti a delle difficoltà, a certe paure, insicurezze, e quindi di conseguenza prendo la palla al balzo e volevo sapere come avevi iniziato tu e che cosa, prima del professionista, l'uomo provava davanti alla telecamera. Domanda profonda, ragazzi. Eh, certo. Allora, facciamo così, ritorniamo agli inizi della mia carriera nel marketing. Ovviamente ho iniziato per le attività mie, io allora avevo perso dei soldi, volevo rifarmi, mi ero messo nel settore immobiliare, prima come investitore poi ho deciso di fare l'agente immobiliare e avevo già cominciato a studiare marketing. E la prima cosa che ti dicono in agenzia, ti dicono devi andare a citofonare alle persone perché devi fare lead generation, diciamo, per strada, e io ovviamente non l'ho mai fatto e ho cominciato ad applicare le mie conoscenze di marketing e tra l'altro per vedere il discorso dei video. Quindi, questo era circa sette anni fa. Il primo video long, diciamo, no? Se vogliamo essere tecnici, anzi il VSL, ci ho messo un mese e mezzo circa a farlo. E per quanto riguarda i post, i video di contenuti non li ho fatti, perché ogni volta che mi mettevo a registrare, mi inceppavo, mi impappinavo, quindi proprio mi vergognavo da morire. Poi ovviamente aumentando le conoscenze, aiutando altri clienti a farlo, diciamo che è diventato anche molto semplice per me fare un video. Oggi non ho ovviamente problemi a parlare in telecamera, però la prima volta è stato molto complicato. E nel lavoro che faccio tutti i giorni c'è anche questa parte, cioè aiutare persone che non hanno mai parlato in video, aiutare a trovare i contenuti da sviluppare poi nei video che producono. Quindi, per ritornare a sette anni fa, se uno ti dovesse chiedere quali sono i quattro, cinque, i tre problemi principali che hai incontrato una volta che hai premuto REC? Allora, primo soprattutto è che è difficile parlare al vuoto, perché tu stai parlando con una telecamera, quindi non c'è una persona davanti, non c'è una persona che interagisce con te, quindi se poco poco fai l'errore di pensare che dietro la telecamera magari ci sono migliaia di persone che ti guardano, è chiuso. Per superare questo ostacolo ho pensato semplicemente, guarda, devi farlo perché sennò questo mese non fatturi, quindi quello diciamo è stato un po' il mio motivo, il mio perché. Gancio traino. Altri problemi quali possono essere stati? Sicuramente trovare un contenuto. Io sono un tipo che non ama fare uno script, ma mi piace avere dei concetti che voglio affrontare nel video e poi vado a braccio seguendo comunque uno schema generale, ma fare uno script preciso no, perché quello è il momento in cui mi impappino, perché magari non mi ricordo la frase, non mi ricordo, e diventa una tortura. e l'ho visto anche con i miei clienti, c'era un altro agente immobiliare che ho seguito che faceva, scusate, che faceva, doveva fare il VSL per lui, non sai che in sei mesi non è riuscito a registrarlo, perché si faceva lo script preciso, però quando registrava guardava telecamera e non si ricordava cosa doveva dire. Eh, perché la sua mente era proiettata sulle parole. Su memorizzare le parole, per questo a me non piace avere uno script preciso, mi piace avere, ripeto, un quadro generale di quello che devo dire con dei concetti che voglio toccare, ma non parola per parola. No, ma... Questo poi è soggettivo magari, non lo so. No, no, non è soggettivo, è così e basta. Nel senso che anch'io nel percorso parlare in video che faccio one to one con i miei potenziali clienti, dico magari scrivi dello in primis, però poi estrapolati delle parti, dei concetti, per poi memorizzarti lì nella tua mente, perché se poi sei collegato a quello che c'è scritto sul foglio, sei collegato più alle parole che al messaggio che stai inviando. E quindi in conseguenza, topi. Infatti. Da sette anni a questa parte, il video è sempre uno degli strumenti più performanti? Beh, è cambiato. Oggi ti dico assolutamente sì, all'inizio, sette anni fa, non c'era quasi nessuno che faceva ads, sponsorizzate, marketing su Facebook, in quel momento c'era soprattutto Facebook, quindi io facevo le sponsorizzate con le fotografie di me in vacanza con mia moglie e poi portavano al video il VSL, perché non lo sapesse il VSL, la video sales letter, quindi un video un po' più lungo dove descrive il servizio o il prodotto che uno dà o vende. E quindi da lì bastavano le foto, i post scritti, quello già bastava sette anni fa. Oggi è cambiato il mondo. Oggi senza video non vado a nessuna parte. Lunghi e brevi, su tutte le piattaforme. Indispensabili. Non puoi fare altro. Allora, anche qui io sto vedendo un mutamento nel mondo del marketing, soprattutto diciamo in America, qua l'Italia è sempre un po' più lenta a seguire. In America comincia ad andare tantissimo la vendita automatica, che significa? La persona vede Alessio, comincia a sentire i suoi contenuti, lo ascolta sul podcast, lo ascolta su YouTube, lo ascolta su Spotify, lo vede su Instagram per un mese, due mesi, dopodiché atterra sulla sales page e compra in automatico. Qui in Italia ancora non siamo lì perché le persone non si fidano a dare i soldi a uno con cui non hanno ancora parlato. Però significa che anche le strategie di marketing cambieranno. In America stanno cambiando e qui cominciano a cambiare. Chiunque vuole vendere online oggi deve creare contenuto. E poi smistarlo? E smistarlo poi su i vari servizi o prodotti che ha. Che poi scelgano una landing page o un sito in rilevante. O un venditore telefonico, quello è diverso. È rilevante, l'importante è catturare la mail per ricontattare il potenziale cliente che ha chiesto informazioni e poi ad oggi qui in Italia fare la vendita quanto vuole. Sì, è verissimo. E ti dico anche sull'email, l'email è fondamentale ma la gente non le legge secondo me così tanto. Ovviamente ogni nicchia è diversa, ogni professionista online è diverso. Quindi proprio perché non siamo sicuri che leggono sempre tutte le mail che mandi, è fondamentale che ti vedano comunque tutti i giorni. Perché pure che non hanno letto l'email dove c'è la tua offerta del Black Friday ma magari vedono il reel o vedono la tua sponsorizzata o vedono la tua story vengono comunque poi avvisati dell'offerta in questione. Quindi non può esistere solo l'email marketing o solo i contenuti ma deve essere un ecosistema, lo diciamo sempre, di marketing fatto apposta e su misura per poter portare gli sconosciuti poi a comprare. Su questo discorso ci sono varie linee di pensiero, nel senso c'è chi dice che l'email marketing è formatore, i guru importantissimi, dicono che ancora è valido, altri che dicono l'email marketing è morto, secondo me la verità sta nel mezzo. Giusto. Perché fondamentalmente l'email marketing è uno strumento che con poco investimento ti porta a un grande risultato, al tempo stesso sì, fondamentalmente l'email marketing ha perso in determinati settori un po' della sua efficacia. Sì ma ti faccio un esempio, seguendo diversi clienti ti so dare anche dei numeri precisi, l'open rate delle email, l'open rate vuol dire quante persone aprono, se io mando a 10.000 persone un'email quante persone aprono, quelli bravi bravi c'hanno un'open rate del 30%, 40% ed è tantissimo, vuol dire che su 10.000 quasi 5.000 persone ti hanno letto, ma l'altre 5.000, l'altre 6.000 non te ne puoi perdere. Quindi con i vari sistemi, strategie, gli algoritmi tu sei in grado di riuscire a ripescare quelle persone con i contenuti. Quindi questo stavo dicendo, non è che non devi fare email marketing perché email marketing è morto. No, no, era per valorare quanto avevi detto, nel senso che deve essere complementare. Purtroppo lo diciamo sempre, lo so, io lo dirò fino alla noia, ma l'ecosistema di marketing è fondamentale. No, no, è fondamentale, era per confermare e dare più forza a quello che stavi dicendo e per sottolineare che, tra virgolette, il fanatismo sotto un certo punto di vista secondo me è sbagliato perché la verità sta nel mezzo, nel senso c'è chi ti dice devi puntare sulle email marketing, ti basta fare una landing page, fai 20 email di nutrimento dove tu e poi, non è vero perché poi fondamentalmente per quanto puoi essere di super nicchia, per quanto puoi essere bravo nella stesura dei contenuti, non tutte le persone, come hai detto tu, non tutti gli utenti poi continuano a leggere le email che hai scritto, che hai fatto scriverle a un copyright eccetera eccetera e quindi in conseguenza è indispensabile integrare questo modo di fare marketing, questo sistema di marketing automation a dei contenuti che comunque quotidianamente mettono la tua faccia davanti al potenziale cliente. Assolutamente sì. Era solo per confermarlo. Sì sì, grazie. No, ecco, ti ringrazio. E quindi dopo che hai superato questa paura, questo disagio più che una paura, perché poi fondamentalmente paura… Sì, no, 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 certo, l'ansia da prestazione o l'ansia di essere giudicato perché comunque c'è sempre idea, oddio mi vede mia zia o mia cugina su Facebook e faccio questa cosa ma chissà cosa dirà. Poi alla fine dici, va bene, ma se devo portare il pane a casa poi in quel momento, sette anni fa, ho perso dei soldi importanti quindi comunque devo in qualche modo rimettermi in piedi. Prima c'era meno competizione, quanto ci hai messo… Nemmeno un giorno per avere il primo cliente. Fantastico. Ma devo dire che questo mi è successo anche con un vecchio socio nel settore della ostepatia, il primo giorno di ads, tra l'altro lui si era già affidato a due web agencies che gli avevano portato via solamente soldi e non avevano portato nemmeno un risultato. Il primo giorno di sponsorizzato abbiamo fatto la prima vendita di 4.000 euro, 4.200 per la precisione. Ad oggi è quasi improponibile, ma anche no, fondamentalmente trovare in un giorno un cliente? No, non sono d'accordo. Dipende sempre come hai strutturato la tua grande promessa. Scusami, perdono, ti ho interrotto, perdono, c'è ragione. Ci sono cose improponibili, ma anche no, perché fondamentalmente… Vai, continua, perché… No, perdona, scusa, c'è ragione, sono un capone, perdona. No, no, che capone, stavamo dicendo la stessa cosa. Sì, sì, dipende dalla grande promessa che hai creato, l'offerta che hai creato, il sistema di follow-up, perché, ripeto, le persone magari ti vedono in bagno la mattina alle 7 quando stanno sulla tazza, è brutto da dire, scusate, quindi sono interessate, lasciano un'email, lasciano il numero, però poi dopo non ti ritrovano più. Quindi ci deve essere anche il sistema di follow-up per dire, oh, guarda, mi ha lasciato l'email, ti interessa ancora? Quindi se hai questo ecosistema, ma anche nel primo giorno, ti devi essere preparato prima. Sulla tazza, ma anche nel letto, perché fondamentalmente attraverso i sottotitoli, sai quante volte una persona mi inizia a seguire sui social nel bel mezzo della notte? Non è che si mette a sentire, magari sta da solo, sì, però non è che si mette a sentire a tutto volume quello che ho da dire, quindi attraverso i sottotitoli io ho l'opportunità anche di andare a prendere quella fetta di mercato, quella fetta di potenziali clienti che in quel momento non possono ascoltare il video, ma pensi possono leggerlo. Sì, sono d'accordissimo con te, contenuti legati a un'offerta. Dico sempre che nella fase di vendita molte persone sono fissate nel voler vendere un prodotto per portare a casa il pane, il che è quello l'obiettivo finale, non c'è da prenderci in giro prodotto o servizio, però fondamentalmente online vince chi non vende il prodotto. Tutti mi prendono in giro su questa frase, ma fondamentalmente io penso che sia la base di tutto, perché nel momento in cui io inizio a creare dei contenuti che aiutino, che aiutano le persone e quindi inizio ad attrarre potenziali clienti, eccolo lì che poi saranno loro stessi a chiedermi informazioni. Tutto sta nel capire qual è il problema che vai a risolvere e soprattutto a presentargli un'offerta irresistibile. Verissimo, tornando sempre, visto che parliamo sempre delle stesse persone, almeno io, Alex Ormozzi, lui ti dice che non ha nulla da venderti e ti continua a dare contenuto gratuito perché il suo obiettivo, il suo lavoro è quello di acquisire aziende, quindi se la tua azienda oggi fattura un milione, domani ne fattura tre grazie ai suoi contenuti gratuiti, lui ti può acquisire, quindi lui ha vinto. Perché ti dico questo? Perché a forza di dare contenuti gratuiti poi in realtà tutti lo pregano di fargli un corso, di fargli una consulenza, ma pagato pesante e lui non accetta. proprio perché dando tanto valore gratuitamente le persone poi vogliono sapere di più, vogliono essere aiutate, scusa adesso cambio discorso, perché tante persone hanno paura di dare il valore gratuitamente, perché poi dicono ah conoscono i miei segreti e allora poi non mi pagano più, no, perché ti possono anche pagare per arrivare al risultato più velocemente, invece di guardarsi mille ore dei tuoi video su YouTube, dicono senti mi piace quello che dice Alessio, fammi contattare Alessio, gli do 100.000 euro, sto esagerando per modo di dire, perché così magari in due settimane, in un mese mi riesce a far arrivare al risultato che invece ci metterai anni a raggiungere. Ma è questa infatti la differenza, è lo scoglio da superare, è la mentalità da superare che hanno tanti imprenditori, cioè nel senso pensano condivido i contenuti e eccolo lì che poi non lavoro più, invece è proprio il contrario, anzi ti dirò di più che secondo me il contenuto gratuito è anche quella cosa che ti permette di alzare il prezzo. e di dare più valore alle tue ore dirette, perché nel momento in cui io gratuitamente ti do tutti i contenuti, se vuoi le mie ore dirette, a quel punto io devo dargli il giusto valore. Verissimo, non d'accordo. Altrimenti fai un videocorso che è una via di mezzo, ma le mie ore dirette è normale che debbano essere retribuite diversamente rispetto ad un infoprodotto o comunque ad un materiale gratuito, un contenuto gratuito che puoi reperire benissimo online. Vero, sono d'accordissimo. Volevo chiederti per quanto riguarda il discorso delle professioni online, ci sono tante professioni che potrebbero veramente fatturare tantissimo, ma sono inchiodate al modus operandi vecchio che non le fa, tra virgolette, progredire. Quali sono, secondo te, 10 professioni? 10, adesso ci devo pensare però. 5, 3. Guarda, uno, te lo dico subito, visto che ne parlavamo prima, il commercialista. Tu mi hai detto che hai conosciuto un commercialista che online era seguito. Molto affermato. Sono sicuro che lui ha fatto un relat tantissimo. Probabilmente anche lo stesso commercialista l'ho visto su TikTok, tra l'altro, perché ce n'è uno molto bravo su TikTok, penso che sia lui. Ma gli avvocati so che purtroppo per discorsi di albo, eccetera, eccetera, non si possono fare pubblicità. Ma anche fisioterapisti si stanno cominciando a mettere online, ma non sanno come. Perché tutti sono convinti, come un po' il volantino, ti scrivo che la prima visita è gratuita, allora tutti verranno da me. No. Vengono da te se tu sei in grado di risolvere un problema e loro devono vederlo attraverso i tuoi contenuti. Quindi, anche quello. Gli agenti immobiliari adesso stanno poi non dando tanto l'online e quindi lì poi devi cambiare la strategia, perché se tutti fanno la stessa strategia, perché devono scegliere me, agente immobiliare, piuttosto che un altro. Quindi, in realtà, tutti, tutte le professioni, tutti i mestieri, se messi online, fatturano di più. Ma anche il calzolaio. Se il calzolaio è più bravo d'Italia, se non lo sa nessuno, farà quei 10, 15, 20 clienti al mese e basta. Se invece si fa vedere, fa vedere che il suo livello di artigianato è superiore, l'altra gente ci va perché magari è un prodotto di nicchia, può alzare il valore, no? E diventa, che ne so, la scarpa, può vendere scarpe fatte su misura, a mano, dall'artigiano italiano e quindi vendere molto di più. Cioè, ho fatto un esempio banale, però in realtà tutti i mestieri, non ce ne sono 10 da elencare, in realtà tutti i mestieri si devono mettere online. Quanto conta la qualità del servizio prodotto online? È fondamentale, soprattutto perché è online. Allora, aspetta, te la riformulo in maniera diversa. Quanto è importante nella fase di attrazione la qualità del servizio prodotto che vendi? Ma per me non c'è differenza tra attrazione o consegna del prodotto. Cioè, il tuo prodotto deve dare risultati ai clienti. Perché? Proprio come l'online ti dà tanta visibilità, dà tanta visibilità anche i tuoi insuccessi. Quindi se il tuo prodotto fa schifo e lo fai solo per fare i soldi e per imbrogliare la gente, l'online poi non perdona. Anche le tue recensioni faranno schifo. E l'online non ti perdona. No, no. Quindi è fondamentale fare cose che funzionano, creare prodotti o servizi che portano risultati. E quello è uno dei segreti. Non c'è... Io continuo a picchiare il microfono. Ma lo fai dal primo podcast. Lo so, ormai lo faccio per scaramanzia. Sì, quindi è fondamentale. Quindi per chi parte da zero in questo 2023, questo podcast sarà l'ultimo del 2022. Quindi in questo 2023, chi parte da zero? Che cosa gli consigli? Ovviamente sempre le solite cose. Allora, intanto stiamo parlando di persone che hanno un'azienda, hanno già prodotti o servizi da vendere o gente vuole imparare a fare marketing? Beh, no, no. Diciamo che parliamo a degli imprenditori che vogliono capire come poter aumentare le loro vendite online. Quindi hanno già un prodotto o servizio e stanno cercando a trasferire. Allora, per aumentare sicuramente intanto si devono mettere su YouTube a guardare video gratuiti di chi può aiutarli. Dopodiché, quando si sono fatti un po' un'idea, scegliere la persona consulente che preferiscono e contattarlo e lavorare con questa persona. Ovviamente devono essere, diciamo, tra virgolette sicuri, che poi di sicuro non c'è mai nulla, però devono vedere dai contenuti del professionista di turno se è veramente in grado di portare a casa i risultati. Fermo restando che il sacrificio è la base del successo. Cioè, non è che... no, perché c'è credenza molto diffusa che contatta la persona e quindi automaticamente ragiona il successo. Non c'è nessun tipo di bottone magico da spingere e si diventa ricchi. O quantomeno noi non abbiamo nessun tipo di bottone magico. Però abbiamo un altissimo percentuale di successo. Che è il sistema. Che è il sistema, sì. Ok, un conto è avere il sistema, un conto è avere la bacchetta magica. Ti posso dire un'altra cosa, magari per dirla un po' meglio, non è detto che chiunque abbia successo, cioè chiunque mi contatti abbia successo domani, magari arriva tra una settimana, tra un mese, tra due mesi, dipende da tutto quello che si è creato prima di iniziare a lavorare insieme. Se bisogna partire da zero, magari ci vuole un po' più di tempo. Io sono ancora più drastico su questa cosa, nel senso che chi entra in consulenza con me, ancora prima magari nel WSL, gli dico non c'è risultato senza sacrificio, nel senso che se non sei tu il primo disposto a metterti in gioco e ad investire del tempo a metterti davanti a telecamera, tu non puoi pretendere che io lo faccia per te. Ma io mi auguro che non ci sia nessuno che la pensi così, cioè se mi contatti, mi paghi e ti dico guarda mi devi fare 10 video così 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 e non me li fai, è un problema tu, sei tu, non sono io. Eh ma ce ne stanno tanti i fenomeni online che prendi, in automatico fai, poi questa cosa dell'automatico a me manda, cioè mi manda un attimo in tilt perché sembra veramente che l'online sia… Purtroppo l'automatico c'è poco, sì la slot machine, ma la slot machine quante volte perdi prima di vincere? No, l'automatico conosco personalmente persone che hanno avuto successo con vendite, con il webinar falden, si chiama a livello tecnico la vendita in automatico, però sono pochi. E comunque la conversione è 1 a 3, 1 a 2, che significa investo un euro, me ne tornano 2, 3, ma non tutti i mesi. Nella migliore dell'ipotesi infatti. Sì, nella migliore dell'ipotesi. Mentre con il WSL per esempio che è una strategia che a me piace, non è applicabile a tutte le nicchie ovviamente, però io ho risultati 1 a 20, investo un euro, ne prendo 20, sempre perché dopo dietro c'è tutto l'ecosistema di marketing che serve a aumentare il lifetime value del cliente, ma stia, meccate questo. Che stile. Hai visto? Tanti clienti mi dicono, ma perché dovrei proprio fare i video quando magari posso mettermi davanti al computer e creare un articolo di blog? Io gli rispondo sempre che a parità di impegno il video ti dà 10 volte di più a resa. A parità di impegno il video ti dà la possibilità di creare successivamente un articolo, a parità di impegno il video ti dà la possibilità di trasformare il video che hai fatto in un podcast audio e quindi di metterlo anche in altre piattaforme, ma soprattutto a parità di impegno una volta che tu hai acquisito quelle competenze per comunicare bene in video, per pubblicare bene i tuoi contenuti, eccetera, eccetera, tu raggiungi un vastissimo numero di persone. Sì, anche perché se io ad oggi faccio un articolo di blog, quanta gente lo leggerà? Se ho iniziato ieri o da un mese fa o sei mesi fa o un anno fa un blog, non è detto che io abbia tante persone che mi vedono. Se faccio un video magari su TikTok e va virale, magari ho un milione di visualizzazioni in un giorno. Quindi è normale che ha una potenza molto molto più ampia il video. E come dicevi te, anzi, secondo me è anche più facile da fare perché il blog post devi guardarlo, rileggerlo, correggerlo. Il video in tre minuti lo fai una volta che hai preso la mano. Ovviamente parliamo di shorts, è un video lungo, ovviamente ci vuole un po' di più. Con un editing magari anche semplice. Ma io non sono contro il blog, nel senso che io... No, 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 ma come risultato ti porta a risultati più veloci il video? Questo siamo d'accordo. Quando io ho le persone che seguo su YouTube, che mi chiedono, che mi fanno un video a settimana per crescere su YouTube, io glielo dico, sbobbina anche il tuo video, metti nella descrizione perché se ci sono delle parole chiave ti aiutano a reindirizzare nell'indicizzazione su Google. Non ho niente contro il blog ma se io devo impegnare tre ore del mio tempo o fare impegnare a un professionista tre ore del proprio tempo per creare solo un blog a quel punto impegno 15 minuti di tempo per registrare un minuto fatto bene, mi faccio il mio shorts, mi faccio il mio reel, lo mando a chi di dovere che me lo monta, i stessi soldi li investisco, li investo per poter raggiungere un pubblico sicuramente più vasto. E poi magari con lo sbobbinamento del testo del video, puoi diventare un blog post, ti indicizzi, assolutamente sì. Fermo restando che dentro al blog io dico sempre inserite sempre il video, perché comunque se le persone possono, preferiscono vedere piuttosto che leggere di un servizio prodotto. Quanto sei d'accordo sulla monetizzazione dei shorts e dei reel se vuoi promuovere la tua attività? Aspetta, monetizzazione parli da parte di chi? La tua, la mia, nel senso... Quando parli di monetizzazione mi viene in mente YouTube che ti paga se produci shorts che ti... che con 90... com'era 10 milioni di visualizzazioni in 90 giorni? Sì, però ipotizziamo che tu riesca a sbloccare questo traguardo. Quanto sei d'accordo con la monetizzazione dei shorts? Sono sempre d'accordo, il problema è che hanno messo dei parametri troppo alti. Anche perché quanto ti pagano una volta che c'hai 10 milioni di visualizzazioni in 90 giorni? No, non so. Quindi... Un caffè, forse. Eh, capito? Quindi, sì, sono d'accordo, ma non devi fare shorts pensando alla monetizzazione. A quel punto, per quanto riguarda i shorts, non pensi che sia meglio non ragionare a livello di monetizzazione, specialmente per canali come il nostro che servono per promuovere la propria attività? Scusa, la domanda non ho capito. Non è meglio, secondo te, disattivare la monetizzazione? No, disattivare no. Io penso diversamente su questa cosa, semplicemente perché per canali come i nostri, dove noi utilizziamo YouTube e gli altri social per promuoversi, secondo me, almeno per quanto riguarda i shorts, è meglio che il messaggio arrivi subito senza interruzione di pubblicità. Poi, ovviamente, i shorts hanno un... per monetizzare attraverso i shorts servono così tante visualizzazioni che non sarà un problema che noi ci vorremmo. No, certo, per carità, però il discorso è che la pubblicità nei shorts non penso che lo facciano durante lo short, penso che lo facciano tra uno short e l'altro. Cioè, uno short di 15 secondi dove la metti la pubblicità? Cioè, dura di più la pubblicità dello short, quindi tra uno short e l'altro non penso che interrompa tanto la concentrazione dell'utente. Hai pianificato il tuo 2023? Sì, però a me piace chiudermi almeno mezza giornata e scrivere proprio bene bene tutti gli obiettivi. Quindi oggi l'ho pianificato, ma diciamo in grandi linee, poi mi devo mettere giù e scrivere come arrivare a quegli obiettivi. Anche io l'ho pianificato in grandi linee e poi uscirà un video proprio lo stesso giorno... no, il giorno prima di questo podcast è uscito un video su come pianificare il proprio 2023. Io mi fermerei qui. Va bene, peccato, mi stava piacendo la conversazione, però va bene. Allora, visto che siamo a ridosso della fine dell'anno, auguriamo a tutti buon anno. Buon anno. Se vi è piaciuto questo podcast iscrivetevi al canale e al prossimo anno. Ciao! Ciao!